Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale Kino1984. Oggi andremo a vedere quelle che sono state le mie letture manga ad aprile 2020. Partiamo come sempre dalle novità e la prima è Mela Meccanica di Osamu Tezuka che vi faccio giusto vedere perché poi ne parlerò più approfonditamente nel video dedicato della serie di video proprio dedicati alla carriera del maestro Tezuka. Sto già registrando il video in cui parlo di Mela Meccanica quindi non vi dico molto se non appunto che è un volume unico di storie brevi uscito per J-Pop nella Osamushi Collection al costo di 12 euro. Poi abbiamo Bao quindi la nuova edizione del primo diciamo grande classico del maestro Hirohiko Araki conosciuto soprattutto per Jojo uscito per Star Comics al costo di 13 euro in un'edizione molto molto bella. Qui davanti abbiamo anche diciamo la cover di Shonen Jump dove fu pubblicato Bao e la storia è quella di un ragazzino che viene diciamo sottratto alla famiglia dopo che questa aveva fatto un incidente da una potente associazione molto molto criminale ovviamente. Vediamo qui il titolo del capitolo che è Bao l'arma finale infatti viene sottratto proprio per fare di lui un'arma devastante solo che mentre sta per essere trasferito appunto diciamo nel covo dell'associazione riesce grazie all'aiuto di Samire che è questa bambina dai poteri psichici molto molto forti questa ragazzina qui a sfuggire dal treno in cui è tenuto come ostaggio e poi ovviamente manderanno tutti i loro scagnozzi peggiori quelli dell'associazione che si metteranno contro di lui e lui dovrà in tutti i modi cercare di sopravvivere a questa vita da braccato ormai. È un'opera molto molto carina sicuramente che fa vedere tutte le ingenuità di un autore ancora agli inizi però molto molto utile anche per chi vuole diciamo scoprire il passato di colui che è diventato un grandissimo autore. Poi ancora una riedizione di un'opera che era già stata pubblicata in Italia ovvero il clan dei Po che era stato pubblicato da Ronnie Manga come Edgar Allan Poe in questa nuova edizione però sicuramente trova diciamo una casa molto molto migliore infatti troviamo delle pin up delle illustrazioni e anche delle pagine a colori che non erano presenti nell'edizione di Ronnie Manga. Questi sono due volumi questo è il primo di due volumi che costeranno che costano 15 euro sempre per jpop manga ed è la storia praticamente di questo clan appunto il clan dei Po che in realtà è composto da vampiri soprattutto diciamo dei due fratellini che sono un po' i protagonisti principali. A loro si andrà ad aggiungere un ragazzino che frequenta la stessa scuola di Edgar che è un po' il protagonista principale e che lui in qualche modo coinvolgerà una serie molto molto bella se vi piacciono le poetiche di Moto Agio che secondo me è un'autrice davvero fantastica anche se io comunque tra le due preferisco Keiko Takemiya le cito spesso insieme perché erano molto amiche oltre che colleghe anche all'interno del gruppo 24 se non sapete di cosa sto parlando andatevi a vedere il video sulla storia e la nascita dello shoujo manga. Poi è uscito un nuovo volume della Junjito collection di jpop ovvero circo e altre storie al costo di 15 euro e qui come sempre ci troviamo di fronte a diverse storie brevi tutte a tema orrorifiche del maestro dell'orro Giungito alcune più carine alcune meno però comunque diciamo in linea di massima sempre un volume di ottima fattura per quanto riguarda le storie che seguono il canovaccio solito quindi iniziano con una storia che fa davvero molto molto paura che poi lascerà verso la fine comunque tantissimi dubbi e anche se così vogliamo dire delle modalità di interpretazioni diverse proprio al lettore. Poi un altro volume unico è la grande avventura di Astro Boy sempre edito da jpop manga al costo di 15 euro nella Osamushi collection e questo secondo me è uno dei modi migliori probabilmente anzi il modo migliore per iniziare ad approcciarsi al personaggio di Tetsuan Atom il robottino che vediamo qui che appunto in occidente è conosciuto come Astro Boy proprio perché questa è una storia scritta dal maestro Tezuka dopo la fine della messa in onda della serie animata di Tetsuan Atom in Giappone quindi non ha niente a che vedere in realtà con la serie principale che ancora in Italia è assolutamente inedita ma racconta una storia del tutto nuova che appunto riparte dopo la fine della serie televisiva quindi sicuramente essendo anche poi un volume unico e completamente leggibile a sé stante penso che sia il modo migliore per chi vuole approcciarsi a questo che è un'icona assoluta non solo del maestro Tezuka ma del mondo manga e anime in generale perché probabilmente è il personaggio più riconosciuto di sempre per quanto riguarda questo settore poi ho letto il primo volume della scuola senza pudore di Gonagai sempre per jpop manga al costo di 9 euro e 90 questo è stato uno dei primi grandi successi della rivista Weekly Shonen Jump dove ha fatto diversi casini infatti l'associazione dei genitori e degli insegnanti diciamo ha fatto molta molta guerra a questo a quest'opera proprio perché in effetti la scuola senza pudore parla di una scuola senza pudore dove vediamo dei professori assolutamente matti che vanno in giro praticamente seminudi che picchiano continuamente per svariati motivi gli alunni che li puniscono per qualsiasi cosa che però a loro volta anche gli insegnanti stessi poi vengono effettivamente puniti in diversi modi dagli scherzi più o meno crudeli che gli vengono fatti da questi alunni quindi sicuramente una serie che su cui pesa abbastanza lo scorrere del tempo ma che è consigliatissima ovviamente ai fan di Gonagai e che può essere consigliata anche agli altri molto molto carina poi ho letto un volume 1 che ho vinto al Lucca Comics grazie al gioco dei tappi di Anime Click ovvero Nine di Mitsuru Adachi a 6,90 euro per flashbook e questa è una delle prime opere credo di Mitsuru Adachi infatti parliamo del 1980 forse non la prima ma una delle prime sicuramente questo si vede anche dallo stile abbastanza acerbo di disegno rispetto ad altre opere più mature come appunto il capolavoro touch diciamo che il tema centrale è sempre il baseball come per molte altre opere di Adachi però questo viene sempre comunque quasi messo in secondo piano rispetto alle relazioni amorose e amichevoli anche dei vari protagonisti molto molto carino anche questo Mitsuru Adachi è un autore che si fa leggere sempre sempre con molto piacere proprio per la scorrevolezza e per la malinconia con cui secondo me ti riporta ai giorni scolastici proprio perché lui ama raccontare quello che è il periodo della gioventù dove tutti diciamo ci mettiamo di fronte a degli obiettivi in questo caso nei suoi personaggi questi obiettivi sono quasi sempre comunque raggiungere l'amore di una ragazza o di un ragazzo e poi ovviamente quello di raggiungere il Koscien che è lo stadio dove viene disputata la finale dei campionati giovanili di baseball e poi per finire con le novità ho letto il primo volume di auto assassinofilia di Usamaru Furuya uscito per Goen e adesso non vedo quanto è il prezzo perché io l'ho preso sul libraccio quindi è coperto dall'adesivo che adesso dovrò togliere tra l'altro questo è molto molto interessante parla di un tizio che è questo qui adesso vi faccio vedere subito questo professore che praticamente insegna in un liceo e ha un sogno se così vogliamo chiamarlo il suo sogno è morire strangolato da una sua studentessa o meglio da una studentessa però chiaramente nel suo caso lui punterà gli occhi su una sua studentessa che è questa qui tra l'altro anche probabilmente la più carina della classe e che sembra anche avere un debole per lui quindi le cose si faranno subito interessanti se non sbaglio sono tre o quattro volumi in totale per quest'opera di Usamaru Furuya che è uno degli autori contemporanei assolutamente più interessanti nel mercato dei manga e poi andiamo abbastanza veloce con le serie in prosecuzione perché ce ne sono un bel po abbiamo il sedicesimo volume di Golden Kamui chi ha visto il mio video sulla top 20 del decennio dei manga del decennio sa che questo è uno tra i miei preferiti quindi ai primi posti non voglio spoilerare per chi ancora non l'avesse vista poi abbiamo il quattordicesimo volume di Mob Psycho 100 sempre davvero stupendo secondo me molto molto sottovalutato per chi si ferma un pochino stupidamente devo dire al disegno di One che a me comunque piace tantissimo poi l'ultimo volume di Angry Marie di Ruei Tamura che è anche l'autore di Beelzebub devo dire carino molto carino far ridere le battute di Ruei Tamura sono sempre molto molto valide per chi apprezza questo tipo di comicità però non è che abbia trovato in Angry Marie diciamo un'opera davvero molto molto valida anche il finale si risolve così un po' in un nulla di fatto non è un granché sicuramente carino per chi ama molto l'autore chi vuole farsi quattro risate però sicuramente non un'opera imprescindibile molto molto bello ancora invece Demon Slayer che secondo me non è assolutamente il solito shonen manga di combattimento non è per niente il solito battle shonen e qui vediamo anche infatti in questo volume dove praticamente di battaglie non ce ne sono assolutamente se non all'inizio proprio un rimasuglio di una battaglia precedente poi vediamo tutti diciamo dei grandi discorsi diciamo proprio etici sul fatto che il nostro protagonista Tanjiro si porti dietro la sorellina demone e incontreremo alcuni tra i personaggi più forti in assoluto della serie poi il secondo volume di Icos molto molto carino mi aveva già convinto abbastanza con il primo e qui vediamo un importante plot twist di Golden Kamui avevo letto tra l'altro anche il quindici che era qui sotto alla pila poi ho letto il sesto volume di Jagan che finalmente mi sta prendendo abbastanza quindi sono contento anche di proseguire questa serie qui Yotsuba volume 4 sempre spettacolare fa fare veramente tantissime risate probabilmente il manga più comico che ci sia al momento in Italia la piccola Yotsuba è davvero una sagoma un personaggio assolutamente bellissimo che ti rincuora mentre lo leggi poi il 29esimo volume dell'attacco dei giganti stupendo secondo me si sta andando verso qualcosa di veramente epico non posso dire di più assolutamente per chi non ha letto l'attacco dei giganti per non spoilerare poi il tredicesimo volume di The Promised Neverland anche questo si è ripreso alla grandissima da un paio di volumi di stanca che erano appunto verso il decimo volume e poi il terzo volume di Icariman anche questo mi sta piacendo molto con questa copertina davvero molto molto spettacolare poi abbiamo il secondo di Banana Fish che è davvero un manga che mi sta piacendo un casino infatti di questo vorrei proprio fare un video a parte dedicato non so se farlo con l'uscita dei primi due o comunque aspettare che finisca o aspettare che arrivi almeno alla metà adesso vedrò un pochino come fare però sicuramente lo farò perché mi sta piacendo un casino davvero e infine abbiamo il quarto volume di Dash Cupay sempre molto molto carino però devo dire che forse i ricordi di infanzia su questo mi avevano un po' influenzato perché me lo ricordavo decisamente meglio però comunque rimane sempre molto molto carino e consigliato a chi vuole farsi quattro risate diciamo in old school anni 80 e queste erano le letture che ho fatto ad aprile 2020 fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate se volete recuperare questi volumi li trovate tutti scontati passando attraverso il mio link affiliazione Amazon che vi lascio qui sotto il quale mi farà guadagnare una piccolissima percentuale per il canale mentre a voi non cambierà assolutamente nulla se il video vi è piaciuto condividetelo iscrivetevi attivando l'icona della campanella per non perdervi nessuna notifica e lasciate un bel like noi ci vediamo alla prossima e ciao